Maurizio Gasparri e Alessandra Mussolini in tour elettorale a sostegno di Vandaferro presidente. Catanzaro e Reggio, le tappe della visita. Forza Italia e alleati hanno intensificato la loro attività sul territorio calabrese. Nel fine settimana i vertici degli azzurri hanno promosso numerose iniziative. La candidata del centrodestra intanto continua ad insistere sui fondi comunitari. Sul tema l'ex commissario della provincia di Catanzaro si è confrontata con la presidente facente funzioni dell'Aggiunta, Antonella Stasi. Laferro boccia il taglio al cofinanziamento delle risorse deciso dal governo, un provvedimento che fa passare dal 50 al 25% la quota di intervento statale. Il governo, dice Vandaferro, deve garantire alla Calabria con impegni formali che alla riduzione di fondi si porrà rimedio attraverso misure parallele di sostegno. Bene ha fatto la regione a non firmare la rimodulazione senza avere la certezza di quali risorse la Calabria potrà beneficiare. Duro il commento dellaferro anche sul programma Sblocca Italia. La nostra regione, dice il candidato del centrodestra, beneficerà solo di 400 milioni, una somma che sarà interamente investita per concludere due lotti dell'autostrada.